Polemica a distanza fra sindacati e tua dopo la decisione dell'azienda di trasporto regionale di tagliare il 10% delle corse nell'area metropolitana in concomitanza con la zona rossa. Con bus semivuoti e poca gente in strada, l'azienda con il parere favorevole della regione ha così messo in atto la riduzione dei servizi. In realtà la polemica è iniziata prima che ci fosse l'attuazione del taglio del 10%. Quindi diciamo che è una protesta preventiva laddove si fa riferimento a un disagio che nel momento in cui hanno scritto ancora non c'era. E questa la dice lunga sull'approccio che si sta avendo. Il secondo dato è che Pescara in questo momento è zona rossa. Quando in passato Pescara è stata zona rossa, la regione ha autorizzato fino all'80% dei tagli, così come previsto da GPCM. Oggi se ne è attuato soltanto il 10% pur stando in zona rossa. Queste misure fanno riferimento a tutta una serie di controlli che la tua ha effettuato, su corse che avevano assolutamente un numero di passeggeri irrisorio. Ma non è che sono stati lasciati a piedi, c'è stata una rimodulazione del servizio. Il fatto che si dica che lo Stato prima o poi risarcirà la tua delle spese che sta sostenendo, è qualcosa che da un lato autorizza una speranza. Ma io vado oltre. Io non credo che se ci fosse anche la previsione di un rimborso dello Stato, questo autorizzi lo spreco. Quindi se i cittadini non girano perché stanno in zona rossa, perché il sindaco di Pescara li invita sistematicamente a non uscire, se non secondo le previsioni del DPCM, quindi per questioni urgenti, è evidente che se non girano non prendono gli autobus. Non si è fatta però attendere la reazione dei sindacati che ribattono ricordando che il governo garantisce per intero i fondi previsti alla tua, la cui decisione è stata anche criticata dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. La delegazione sindacale del servizio urbano è stata ricevuta dall'azienda, quindi a cose già fatte, perché i servizi sono stati tagliati già da lunedì, sono state convocate le organizzazioni sindacali e da questa riunione ovviamente non è sortito nessun tipo di passo in avanti. Quindi l'azienda ha di fatto ignorato anche le critiche che sono state sollevate dal presidente del Consiglio regionale, piuttosto che da alcuni consiglieri regionali, ma immagino anche dalle stesse amministrazioni comunali che sono state interessate da questi tagli. Perché io voglio precisare che la sola società regionale di trasporto è stata l'unica azienda di trasporto pubblico che beneficia di contributi pubblici a effettuare questi tagli nelle cosiddette zone rosse. Nelle zone rosse infatti incidono diverse aziende di trasporto pubblico locale, sia nel Pescarese che nel Chietino, penso alla Panoramica, penso a Tessitore, penso a Difonso, penso a Napoleone. Ebbene nessuna di queste imprese, se facciamo eccezione appunto per la società regionale di trasporto, ha deciso di tagliare dei servizi pubblici essenziali.